Un muro di fiamme alte 10 metri ha illuminato la notte di alcuni comuni del mandamento. L'allarme è scattato verso le 2. Le fiamme precedute da un terribile boato hanno avvolto un tir. Il partito da Genova è diretto verso Taranto che trasportava fusti pieni di olio e lubrificanti per utilizzo meccanico. Il conducente di nazionalità bulgara non ha riportato ferite e è riuscito a sganciare la motrice del semirimorchio prima che accadesse il peggio. Uno scenario terribile che ha pietrificato gli automobilisti in transito sulla 16 Napolicanosa al 25esimo chilometro a pochi metri dal casello di Baiano. Il rimorchio è diventato una torcia mentre alcuni fusti scoppiavano rilasciando olio incandescente sulla strada. Uno scenario apocalittico che fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi. È rimasta chiusa tra l'una e le sette di questa mattina da Napoli-Bari tra Baiano e Tufino. La carreggiata in direzione Bari resta chiusa, il fondo stradale risulta danneggiato e tende a sgretolarsi. Traffico in tilt con lunghe code che hanno raggiunto i 5 chilometri a causa del ristringimento della carreggiata. Sul posto gli uomini della polstrada, diretti dal comandante Alfano e i caschi rossi. Durante la fase di spegnimento quattro vigili del fuoco e dell'istaccamento di Nola e Avellino che hanno lottato per ore contro le lingue di fuoco sono rimasti leggermente feriti. Una serata da sold out per il Conservatorio Cimarosa di Avellino sabato sera dedicato alla grande lirica che ha avuto come scenario l'auditorium Vincenzo Vitale della struttura di Piazza Castello completamente rinnovato. Due ore di musica scandite dalle più belle aree tratte dalla traviatra di Giuseppe Verdi e dalla bohème di Giacomo Puccini interpretate dal soprano internazionale di origini irpine Carmen Giannattasio accompagnata dall'orchestra del Cimarosa diretta dal maestro Francesco Ivan Ciampa e dai solisti Raffaele Abete, Raffaele Raffio, Paola Francesca Natale che hanno entusiasmato il pubblico presente. Tante le autorità presenti in sala per tenere a battesimo la casa della musica di Avellino dal sottosegretario del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Umberto del Basso De Caro all'onorevole Angelo D'Agostino, dal presidente Nicola Mancino al presidente del Consiglio regionale Rosetta D'Amelio. Io sono convinto che questo teatro, questo auditorium del Conservatorio Cimarosa entrerà presto nei cuori degli avellinesi che impareranno a frequentarlo. Stasera abbiamo solo iniziato perché da stasera inizia una nuova storia, una storia fatta di musica chiaramente. Dalle prossime settimane andranno qui in scena una serie di concerti, c'è già una rassegna con sei eventi che parte nei mesi di settembre e di ottobre e poi si andrà avanti ancora nel periodo natalizio, con il nuovo anno, insomma veramente tanta musica che bolle in pentola. Carmen è tornata e ha accettato l'invito con tanto entusiasmo, però anche gli altri solisti sono di fama nazionale e internazionale, come Raffaella Bete, la Natale, sono soprani in carriera. Una serata sold out, come dicevamo, e che proprio per l'afflusso di pubblico arrivato anche da fuori provincia, ha creato però polemiche e qualche disagio. Tanti gli inviti spediti dalla macchina organizzativa del conservatorio, che uniti alla possibilità di accedere liberamente alla serata, hanno portato molte persone a restare fuori dai cancelli, anche chi era stato invitato formalmente. Ancora un'altra vittima dell'Ufantina, si tratta di un cinquantenne originario del Potentino, alla guida di un furgonato Deili, che per motivi ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un Alfa Romeo condotto da un 21enne di Volturara, attualmente ricoverato al Moscati per ferite ed escoriazioni multiple. La tragedia si è verificata poco dopo la mezzanotte, entrambi i veicoli procedevano in direzione Volturara. Sul posto dei carabinieri di Avellino, l'ambulanza del 118, il tempestivo arrivo dei soccorsi non è servito a salvare la vita al cinquantenne della provincia di Potenza a causa delle gravi ferite riportate. L'uomo espirato subito dopo il ricovero, il 21enne, che a Pasquetta era rimasto coinvolto in un altro grave sinistro, in seguito al quale aveva riportato gravi ferite e per un lungo periodo era rimasto in coma, non è in pericolo di vita. L'intervento di messa in sicurezza del veicolo è stato lungo e si è concluso intorno alle 4 di questa mattina. È ufficiale, il referendum costituzionale si terrà il 4 dicembre 2016 ad annunciarlo nelle ultime ore il Consiglio dei Ministri. Il voto sulla riforma costituzionale rappresenta un momento importante per il futuro del governo Renzi, ma anche e soprattutto di tutta l'Italia. Di riforma, ma anche di economia, mezzogiorno ed aree interne, si è parlato questo pomeriggio a Contrada, nell'ambito della seconda festa provinciale di Generazione Futura Irpinia. Tra gli altri ad intervenire il Vice Ministro dell'Economia Enrico Morando ed il Deputato di Scelta Civica Angelo D'Agostino. L'Italia da troppo tempo non cresce adeguatamente e nel mezzogiorno questo problema finisce per accentuare il divario di sviluppo rispetto al centro-nord. Per tornare a crescere l'Italia deve cambiare, cambiare profondamente in tutti i campi, è quello che stiamo cercando di fare. Ma chi dirige questo cambiamento? La risposta ovvia è la politica. La politica cos'è? La politica è la capacità di decidere del Parlamento, la capacità di orientare quella decisione da parte del governo. Noi abbiamo una Costituzione in forza della quale nella seconda parte si descrive un governo e un Parlamento che funzionano male e non sono particolarmente autorevoli, a differenza di quello che accade nelle altre democrazie europee. Se vogliamo il cambiamento e il cambiamento è necessario per tornare a crescere, dobbiamo cambiare il sistema politico costituzionale. ecco perché la riforma del sistema politico costituzionale è così importante anche per affrontare i problemi economici. Una riforma importante per il futuro dell'Italia, spero che tutti la capiscono perché si parla tanto di riforme e poi una volta che si fanno c'è una serie di contestazioni. Quindi ci auguriamo tutti che passi questa riforma perché ne abbiamo bisogno. Una riforma importante anche per l'economia e in particolar modo per il Sud Italia? Soprattutto, certo, per l'economia, per il Sud Italia è fondamentale anche perché la riforma sburacatizza un po' quelle che sono le procedure e cerca di snellire tutte quante quelle che sono queste leggi quindi cerchiamo di essere un po' più produttivi soprattutto con una sola camera anziché avere il bicameralismo che ogni volta che si decide si passa da una camera all'altra e si perde un sacco di tempo. Quindi proprio il 21 di settembre abbiamo approvato una legge per quanto riguarda, parlando delle nostre aree sui vini e su quelle che sono i vitigni delle nostre aree se fosse già passata la riforma noi già la legge era legge invece adesso va al Senato poi il Senato si riporta le motivi che torna alla camera quindi cerchiamo di essere un po' anche perché sono 50 anni che si parla di riforme se adesso si è arrivato a fare qualche riforma credo che dovremmo fare un plauso Arrivano gli atti aziendali di ASL e i Moscati e così come avevamo anticipato ieri nel corso del telegiornale la mannaia dei tagli decapita circa 28 unità complesse nel caso dell'ASL di Avellino 28 primari sacrificati in nome del decreto Polimeni ieri il direttore dell'azienda sanitaria locale Maria Morgante ha avviato ufficialmente l'iter per l'approvazione definitiva del documento dopo una prima ricognizione interna del collegio di direzione ora dovrà passare al vaglio dei sindacati il cui parere è bene ricordarlo non è in alcun modo vincolante e del comitato dei sindaci molti dei quali sono già sul piede di guerra tempo tre giorni e dovrà arrivare l'approvazione definitiva il documento non ancora pubblico nei suoi contenuti seguirà comunque perisseguamente le direttive del commissario ad acta Polimeni così come ha spiegato il manager dell'ASL tagli sostanziali e sostanziosi nelle ASL locali si passerà da 74 a 46 unità organizzative complesse l'equazione è la solita un tot di servizi per numero di abitanti un concetto contro il quale i sindaci possono fare ben poco e proprio i primi cittadini di Solofra e Ariano due distretti toccati dal piano puntano a preservare l'offerta Gambacorta aspetta di vedere il documento prima di esprimersi prudenza dunque sul tricolle sul versante Valle dell'Irno all'Andolfi di Solofra il sindaco Vignola chiede la convocazione con urgenza del comitato dei sindaci il primo cittadino teme un forte depotenziamento e ridimensionamento dei servizi all'Andolfi l'atto aziendale sottolinea Vignola non è stato redatto in tempi utili per un confronto l'assenza di un faccia a faccia con i sindacati che avrebbe dovuto esserci già lunedì ha scaldato gli animi dei segretari di categoria insomma il concetto è che l'atto aziendale va rivisto nella sua interezza sul piede di guerra dunque sindaci e sindacati che minacciano proteste L'amministratore delegato di Industria Italiana Autobus traccia il percorso produttivo dello stabilimento in Valle Uffita al tavolo del Mise erano presenti Stefano Del Rosso il responsabile ministeriale dell'unità di gestione delle vertenze Giampiero Castano gli assessori regionali alle attività produttive al lavoro Amedeo Lepore e Sonia Palmieri i sindacati di categoria Del Rosso non ha svelato il piano produttivo nei dettagli ma ha tracciato una roadmap con dei punti cardine i lavori di ristrutturazione del sito cominceranno a dicembre a gennaio si entrerà nel vivo con l'installazione delle nuove linee di produzione e tra gennaio e febbraio usciranno dallo stabilimento le prime scocche finite per i bus di 8 e 9 metri destinate alla lavorazione dello stabilimento Gemello a Bologna dunque tra gennaio e febbraio parte dei lavoratori ritornerà in fabbrica 40 per la precisione non prima però di essere stati formati dalla regione Campania che prevede ovviamente la formazione dell'ex tutte blu a rotazione in ogni caso Del Rosso assicura che in base alle commesse già acquisite entro l'estate 2017 saranno ricollocati al lavoro tutti i 297 dipendenti si conta in quel periodo di ottenere il residuo volume di commesse che possono garantire la piena saturazione cioè 500 autobus all'anno un incontro chiarificatore che come ha commentato l'ex operaia Silvia Curcio getta le basi per essere propositivi il governo ci mette la faccia e sprona del rosso a accelerare i tempi ma anche a limitare le commesse estere a novembre tutti a Roma per un aggiornamento non tutte le sigle sindacali si dicono però soddisfatte dell'incontro positivo è il giudizio della FIM CISL che esprime il suo gradimento per la prospettiva industriale prefigurata per il sito dei Flumeri sulla stessa linea il presidente del consiglio regionale Rosetta D'Amelio che si dice certa che la firma di oggi possa rappresentare il primo passo verso il rilancio della vocazione industriale dell'area industriale di Flumeri voce fuori dal coro la UGL che considera il vertice deludente il progetto delenato da Del Rosso ancora pieno d'ombre l'unica certezza e si legge nella nota la cassa integrazione che tuttavia non può compensare il disagio causato dalla chiusura dell'azienda e dalla mancata riapertura della fabbrica per la quale siamo in forte ritardo la valle del sabato a Raggi X si allarga l'inchiesta condotta dalla procura della Repubblica di Avellino sull'inquinamento che attanaglia piano d'ardine comuni vicini un'indagine modello isochimica come amano definirla gli inquirenti di Piazzale di Massico un parallelo che la dice lunga sui veleni e la conseguenza giudiziaria che potrebbero uscire fuori dall'ispezione seguita a tappeto dai carabinieri del Noe che hanno monitorato il nucleo industriale lo stir in particolare anche dall'alto con l'utilizzo di un elicottero dotato di termocamera e telecamera a raggi infrarossi visionati acquisiti anche dei documenti e certificati in possesso dell'amministrazione che gestisce l'impianto di Piano d'ardine dove da dieci anni giacciono nel piazzale circa 20.000 ecoballe nei prossimi giorni ci saranno altri controlli a tappeto che interesseranno alcune industrie della zona che secondo gli ambientalisti risultano particolarmente inquinanti in azione ancora una volta ai militari del Noe e il superperito nominato dalla procura Giovanni Auriemma che in passato si è occupato anche dell'ex isochimica saranno setacciate le aziende sospette fotografate in alcuni casi personalmente dagli ambientalisti mentre scaricano sversano liquami nei fiumi mentre la valle del sabato viene soffocata dall'impressionante nube di fumo nei prossimi giorni saranno resi noti alla procura i dati sui livelli di inquinamento registrati dagli esperti durante il sovralluogo ma anche la regolarità dell'attività degli impianti delle varie fasi del ciclo di produzione dello stir come per l'ex isochimica l'inchiesta si muoverà a step la procura con tre mosse in tre step dunque potrebbe mettere alle corde i presunti avvelinatori della valle del sabato aria sotto suolo e salute delle comunità strette nelle modi terra che va tra piano d'ardine a cella d'epicentro dell'inquinamento per ora non ci sono indagati nei provvedimenti ancora presto per parlare di ipotesi di reato ma la procura però anche sulla scorta dei dossier consegnato dai componenti dell'associazione salviamo la valle del sabato segue pisse inquietanti che riguardano il disastro ambientale ma non solo la procura è in attesa di verificare una presunta correlazione tra inquinamento della zona e numerosi decessi per patologie tumorali avvenuti e denunciati in questi anni presso potrebbe essere stilato un dossier dei cittadini che hanno perso la vita per problemi respiratori un elenco di morti sospette come raccolto dagli inquirenti nel corso dell'inchiesta su disto chimica cartelle cliniche e analisi che saranno esaminati dagli esperti dell'istituto superiore di sanità in caso che uscissero dagli accertamenti dati allarmanti ci sarebbero anche estremi per seguire la tesi dei omicidio colposo un'indagine che solo all'inizio ma che fa già rumore tremare chi da anni secondo gli ambientalisti ha avvelenato la valle del sabato sono cominciati di buon mattino i lavori presso la tribuna Terminio dello stadio Partenio Lombardi settore che ieri pomeriggio è stato interamente sequestrato dagli uomini della squadra mobile su disposizione della procura della Repubblica un provvedimento eseguito d'urgenza a tutela della pubblica incolumità in questo caso dei tifosi che assistono alle partite da questo settore stamani allo stadio si è recato anche l'assessore comunale Preziosi con altri tecnici del comune mentre una ditta incaricata dalla società ha avviato i lavori di spicconatura un intervento di messa in sicurezza per consentire questo almeno è l'obiettivo dell'US Avellino e il disseguestro della tribuna per la partita di sabato ma comunque al di là dei lavori ottimati i quali sarà necessario un sopralluogo anche da parte dei tecnici della procura il filone di indagine riguarda verifiche tecniche sui lavori eseguiti in questi anni e quindi anche sulle cause del distacco di pezzi di cemento dall'anello superiore della Terminio gli inquirenti che ad agosto hanno sequestrato documenti presso il comune hanno focalizzato l'attenzione in questa fase delle indagini sull'anno 2013 convenzione lavori eseguiti appalti che vengono attenzionati per chiarire probabilmente il rapporto economico tra comune e società bianco verde il 2013 è l'anno dell'ormai famosa delibera durante la ricognizione allo stadio fatta martedì mattina il ctu di benemento incaricato dalla procura ha rimenuto diversi pezzi di cemento grandi tra i 10 e i 20 centimetri ed ha rilevato una serie di aspetti tecnici non conformi che hanno determinato il pericolo di pubblica e incolumità di cui il provvedimento d'urgenza è quindi il sequestro della tribuna ma non si esclude la possibilità che nelle prossime ore vengano emessi ulteriori provvedimenti a carico di eventuali irresponsabili inesima scura e di tagli sulla sanità irpina la bufera scatenata dagli atti aziendali di Asle e Moscati continua ad agitare gli animi di sindaci e sindacati oggi il termine per la consegna degli atti se le direttive dell'atto aziendale del Moscati non sembra destare malumori quello firmato dalla Morgante per l'Astr ha sollevato un vespaio di polemiche secondo i primi dati emersi dal faldone di 150 pagine i nosocomi di Ariano Sant'Angelo Solofra subiranno un notevole ridimensionamento ben 28 unità complesse saranno trasformate in semplici con relativa eliminazione dei primari l'ospedale di Ariano verrà declassato a dipartimento di emergenza e prevenzione di secondo livello a Sant'Angelo dei Lombardi si registrano tagli meno rilevanti il plesso dell'Andolfi di Solofra subirà il declassamento di numerose unità complesse ortopedia laboratorio anestesia riabilitazione nefrologia e radiologia a solle varie obiezioni rispetto all'atto aziendale dell'azienda locale sanitaria anche il tribunale del malato il responsabile del tribunale stesso Antonio Gambacorta pone un accento sulle incongruenze del piano non si comprende il declassamento di Ariano delle unità complesse di neurologia uno dei riparti più produttivi e ce n'è anche per il Slandolfi che da spoc di primo livello nella rete dell'emergenza pediatrica diventa presidio ospedaliero decisamente poco tempo per discutere prestare quanto meno riflessioni sugli atti come ha sottolineato Antonio Santacroce segretario per la funzione pubblica della CISL Irpini Asagno non basta aver individuato delle nuove geometrie organizzative e centri di responsabilità per garantire diciamo un modello organizzativo in cui il paziente sia posto al centro del sistema necessitano valorizzare le competenze attribuire delle nuove responsabilità creare nuovi ruoli perché queste sono le condizioni che servono a raggiungere quegli obiettivi che sono indicati nel parco per la salute se il governatore regionale i direttori aziendali andranno in questa direzione il nostro contributo sarà assicurato se una funzione scompare si deve capire questa funzione se serve o non serve allora noi veniamo da un taglio generale in cui questo territorio è stato fortemente penalizzato e ne hanno beneficiato altre realtà territoriali noi sicuramente su questo percorso non ci saremo ci sono parecchie inesattezze la prima inesattezza nel termine dei portati delle persone che hanno fatto domanda perché ovviamente c'è da dire che tutte queste persone che hanno fatto domanda sono persone che sapevano a cosa andavano incontro mi rendo conto della difficoltà del fatto ma sapevano a cosa andavano incontro c'è da dire che tutte queste persone che hanno fatto domanda un 40% fa parte dei precari storici ma un 60% è anche gente che non erano nei primi posti nei gradatori è gente che ha insegnato poco tutti i precari delle GAE sono tutti precari che hanno fatto la storia della scuola sono tutti precari che stanno a scuola da una vita e sono tutte persone che a breve dovrebbero entrare in ruolo quindi non è stata fatta la domanda è quello che a noi serve è quello che a noi ci preme a questo punto è che venga rispettata la mobilità ordinaria per il prossimo anno cosa vuol dire? vuol dire che quest'anno tutti i posti sono andati ai trasferimenti interprovinciali ma dal prossimo anno come dice la legge un 50% deve andare alla mobilità interprovinciale l'altro 50% deve essere diviso equamente tra i precari delle GAE e i vincitori del concorso 2016 quest'anno ci aggiungiamo anche questo è stata modificata la legge sulle assegnazioni provvisorie cosa vuol dire? che come ho detto prima per tre anni coloro i quali sono entrati di ruolo non potevano tornare ma restare nella sede assegnata invece l'emendamento pugliesi cosa ha fatto? ha fatto sì che tutte le persone che hanno fatto domanda fuori hanno avuto la possibilità di tornare perché hanno dato tutti i posti disponibili che dovevano andare in carico sono stati dati a tutte le persone che anche hanno fatto domanda quindi loro anche non potendo tornare facendo assegnazione sono comunque tornati precedendo noi delle GAE quello che noi chiediamo è che quindi venga rispettata la legge nella mobilità dei trasferimenti del prossimo anno con una mobilità ordinaria e che venga evitato un nuovo emendamento pugliesi la legge parla chiara e va rispettata c'è anche il capitolo della 104 alcuni professori si sono lamentati dicendo ci hanno scavalcato e ci scavalcheranno sempre e beh la storia della 104 c'è sempre stata chiaramente ora non mi va di entrare nel merito di questo 104 su persone che hanno veramente problemi e persone che non li hanno sicuramente ci sono persone che hanno problemi e ci sono anche quelli che non li hanno però andrebbero fatti dei controlli adeguati e questo che a noi preme che vengano fatti controlli adeguati per vedere se veramente c'è il problema o se credeva che tutta quella droga abilmente occultata in quella vecchia 500 potesse consentirgli di sottrarsi alle proprie responsabilità ma non aveva fatto i conti con i carabinieri e così è finito nei guai insieme ai colleghi della compagnia di Mirabelle Clano i carabinieri hanno tratto in arresto un 42enne di Altavilla Erpina già nota l'autorità giudiziaria in quanto gravato da diversi procedenti di polizia e recentemente deferito per il reato di rissa l'uomo è ritenuto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente aggravata dall'ingente quantitativo nonché detenzione di arma clandestina e munizionamento da guerra fermato durante un ordinario controllo alla circolazione stradale visto lo stato di incontrollata e immotivata agitazione e nervosismo i militari hanno deciso di estendere la perquisizione anche presso la sua abitazione in relative pertinenze e qui il colpo di scena all'esito dell'attività effettuata all'interno del garage occultati nell'abitacolo e nel bagagliaio di una vecchia Fiat 500 sono stati rinvenuti circa 2.300 grammi di cocaina purissima e oltre mezzo quintale di hashish suddivisa in 540 panetti da 100 grammi cada uno sotto il sedile dell'auto è stata inoltre rinvenuta una pistola calibro 9 con matricola a brasa pronta all'uso completa di serbatoio con 6 proiettili il 42N le cui responsabilità sono state definitivamente sancite dalle analisi tossicologiche eseguite dai carabinieri del laboratorio analisi sostanze stupefacenti è stato così dichiarato in arresto e dopo le formalità è stato condotto presso la casa circondaliale di Bellizirpino a disposizione della procura gli accertamenti tecnici e qualitativi hanno permesso altresì di quantificare il numero di dosi medie ricavabili dalla sostanza inoltre 10.000 di cocaina e circa 350.000 di hashish destinate verosimilmente a incrementare il mercato della droga ad Avellino e provincia aprono in occasione della quindicesima edizione di invito a palazzo le porte dei più importanti istituti di credito nazionali arte e storia nelle banche capolavori di proprietà degli istituti diventano per un giorno patrimonio culturale delle comunità territoriali anche la sede della BPR di Avellino di Collina Ligurini stramano organizzato visite guidate per ammirare i capolavori di 700 800 e primi 900 italiani in collaborazione con l'Accademia delle Belle Arti di Napoli presieduta dal professor Paolo Ricci una collezione di oltre 100 quadri che conferma la grande attenzione della Banca alla Cultura alla valorizzazione e conservazione dei tesori del patrimonio italiano girando per questi uffici mi ha affascinato e mi ha stupito la presenza di tutti questi quadri abbiamo cominciato a lavorarci a farli un po' guardare ed esaminare anche dall'Accademia delle Belle Arti di Napoli e effettivamente ci hanno detto che è una collezione importante di 150 opere che investono un periodo importante da un punto di vista culturale e dell'arte di queste zone quindi 700 800 primi del novecento e arrivando a questo invito sapevo che questo avveniva nei primi mesi all'inizio dell'autunno abbiamo raccolto volentieri ho chiesto la nostra direzione di poterlo fare mi hanno detto di sì e oggi siamo ben contenti a fare questa giornata di festa in quel javellino direi che è un'opportunità interessante in un momento complessivamente difficile per coniugare un po' di pensieri rilevanti il primo è quello dell'apertura è un momento in cui è più facile chiudersi provare a nascondere provare a non dire e questo è un segno bello penso proprio di necessità di condividere il secondo è quello del territorio quindi l'attenzione proprio ai territori fatta con gesti concreti noi stiamo facendo la stessa esperienza oggi contemporaneamente presso la nostra sede generale Modena e questo è un segno importante verso Avellino e verso la campagna e il terzo penso sia proprio quello della bellezza sono tempi in cui siamo sempre di corsa siamo sempre preoccupati siamo sempre un po' affaticati è bello potersi fermare e contemplare qualcosa di veramente interessante e questo è un segno